Allora innanzitutto salutiamo il capitano Non ti perdono Il signore avrà per tutti Simone, due, la ringrazio Maligna Cagliardi Ryan Iozzo Verso Grandinetti Idella Vincenzo per il numero Martino Bullo E poi Piazza Dirigente Donato Massimo Mister Pellegrino Perfetto Signori Un bocca al lupo Grazie Vi ricordo sempre che l'abbiamo vinto lo stesso Non ti preoccuparti L'Indiano Ben ritrovati ancora Era l'ultima partita di questa tappa Pusco detto L'ultima gara insieme Grazie a domenica A domenica oggi padrone di casa dell'FFG Friuli Venezia Giulia sfidano L'ICR L'ICR Lamezia Gara Fusco detto Targata a punto cuore Gli arbitri Innaurato Benedetti Al cronometro Lungo 12 Iozzi 17 Verso 22 Grandinetti 27 Villella 28 Martino 30 Cullo Uno Piazza Al mister Walter Vendegrido Ragazzi Divertitevi All'Indiano Saldio d'Oro Grazie Grazie ai nostri sponsor questo è il punto attuale per il migliore, calciverina del Bungoliero, fa il sabato, fa la propria, lucidense, cacabella, tutto il posto, il migliore delle forze, il tasolino e la nuova delle stesse. Oh! Stai qui! 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 There's just a kiss to make it Sacri, braccia, arque? Calma! Calma! Calma, calma! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono, 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 te ne è capitano ancora. Buono, buono. Pala, io so quello che gli volevi dire. È chiaro che se c'è la possibilità di avere il passaggio vicino, ci diamo la palla vicino per gestire, ok? Una e due cosa, se ci rendiamo conto che non c'è pressione su Saboli, noi dobbiamo guadagnare campo. Ok, dobbiamo salire in palla. Sì, non lo dico adesso, dico, la palla è in filella, capito? Però siamo vicino, palla la palla è in mano, dico ito, non dico altra cosa. Capito? Balla, no, se vedi che non c'è pressione su Saboli perché stiamo decidendo di non fessarlo. guadagniamo campo in modo che se esce abbiamo già guadagnato da lui, se non lo metri di campo. Prequendo perché tu prima li fai lavorare a tre, dopo portando il taglio grey in quel giubbio, se lo devono seguire o non lo devono seguire, capito? Quindi magari tante volte non hanno seguito il giubbio, devi creare sto piccolo giubbio. è sempre più quale. Bravo! La braccia è larga, braccia è larga! Buona buona buona! No, a lui pro! Vabbè, va bene! Sì, sì! Arzia, via! Bravo! Allora aspettate, prima esce, prima esce... aspetto facciamole bene faccia 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 3 a 0 ha marcado con la 11, Rai Aña, 2 a 2 3 a 0 ha marcado con la 11, Rai Aña, 2 a 1 3 a 0 ha marcado con la 11, Rai Aña, 2 a 1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti